musica buonasera a tutti e benvenuti bentornati sul minecraft report siamo tornati in un nuovissimo server io c'ho due oci c'ho due oci grandi così tutto nero, due occhioni proprio da paura e insieme al mio collaboratore collaboratore la direte che mi metto lollipop che fate voi due? siete incazzati per qualcosa? cosa combinate? basta basta su con quella dietro tra l'altro c'è il sorriso tra l'altro c'ho niente? no sono sprovvisti niente ok siamo in un nuovissimo server e vediamo un po' se questo server ci diciamo ci può piacere può può non ho altri aggettivi disponibili può fare qualcosa può tornare utile abbiamo abbastanza abbastanza cose direi ci abbiamo e ci siamo registrati abbiamo fatto tutto il server vabbè quello che è e attenzione tempo scaduto sarei chiccato ho trasferito un altro server andiamo nel faction la mia lidia la gusa bello cos'è qua sto sta disgrazia cos'è successo qua? è esploso una poppa atomica cos'è successo qui? mi tocca censurare anche lo schermo del monitor perchè c'è scritto benvenuti in questo posto qua oddio suggerimenti allora per il nuovo plugin per il nuovo plugin dei vampiri warp regole per capire come funziona il server per andare a warp regole allora per andare in altre informazioni chiederò lo staff per problemi di crash o lag rivolgersi a sto qui dove ne vota per info del vip vabbè warp giungla bello cartello sotto il trasport vabbè warp alude perchè c'è un blocco eh warp nether warp funghi warp m hand tutto cos'è? mob pwn sono dei nomi sto cercando di capire lo scopo di questo server warp neve bello warp neve warp mesa warp forest cercando di capire lo scopo di questo posto i nostri oh questo mi interessava i warp questo mi interessava me allora vediamo un po' cosa hai visto parkour warp fanculo ma me l'hai scritta a te sta cosa? mi è apparso un messaggio in chat? mi è apparso un messaggio in chat che spammava il server un messaggio privato ogni tanto il server ti spamma il ip si ah perchè ah se tu scrivi il ip del server ti da tutta sta roba qui si ma vacca stai intendo il nome del server ti da tutto sto papiro di roba ah se dici una parolaccia ti da tutto sto papiro di roba bello bello bella censura andiamo al warp fanculo vediamo cosa c'è nel warp fanculo bello 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 no è bellissimo questo è il warp fanculo perfetto siamo a posto concluso l'episodio ciao arrivederci me ne vado cos'è sta roba? regole oh qui ci sono le regole per noi per i player allora non insultare pain and mute non spammare pain and mute non usare hack pena ban si può avere massimo un hack hack ah account si può avere massimo un account boh ci miseria ma scrive dammi la mano che non so legge sti cartelli for aiuto pena un register quindi un account se no ti registra non killare lo staff tranne se è pvp ok buona regola buona regola è buona e giusto vabbè qui ci sono altre cose ma sono io che non riesco a leggere questi cartelli o cosa? allora warp pvp wapgiv ah ok sono io che non sono un buono di leggere eh ecco ahahahah andiamo al casino eh volevo dire andiamo al casino andiamo al casino facciamo un giro al casino vediamo cos'è sta roba? cos'è sto ci ha vomitato l'arcobaleno qui sopra cos'è sta roba? bello eh bello oh allora puoi scrollare puoi scrollare col mouse per aumentare i coin per comprare verbo scrollare verbo scrollare cassiere chiara cassiere? no coin non ho i soldi per non posso giocare non posso giocare voglio giocare ok posso scommettere 5 money non ho i money ok warp regole warp casino warp gpvp proviamo proviamo ad andare a pvp proviamo ad andare a pvp dove è pvp? avevo visto che era qua pvp andiamo al warp pvp ok andiamo al warp pvp bello è bello bellissimo dove dove devo andare? qua sotto? qua sopra? buttati aspetta un attimo aspetta un attimo io arrivo da qua e i cartelli sono da qua vabbè dettagli dai sono cose piccole lasciamo stare allora buttati lollipop siamo qui dobbiamo lavorare siamo qui per lavorare e non per carteggiare quindi andiamo di sotto aia oh 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 ma ho saltato con quattro colpi e che calma oh e che calma adesso adesso io picchio te adesso io picchio te scusa questa mafia cos'è questa mafia? devo provare il casino devo provare il casino quindi adesso io picchio te e e e e così posso provare il casino che che siamo felici tutti così allora dove siamo? dove siamo? vieni qui e devo vincere 500 ah che bello sei trappolato eh ma sei trappolato oh madonna giv test assicurato sia la tua testa che la mia mi ricorda il server mio quando facciamo il minecraft crack shot la crutch armory che poi che è sicuro che troppa la testa ma quella è un'opzione che ho sbagliato io che mi scossa sistemare vabbè comunque abbiamo 500 money oh ora andiamo e voglio fare il casino su ah devo prima prendere i money da qua ok e facciamo il casino ok dai 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 voglio vincere si deve lei con la mia bellissima testa voglio vincere porti sfortuna ho vinto non ho vinto niente che miseria non ho vinto guarda devo vincere qualcosa commento a tutti devo vincere la una qua non posso una alla volta massimo dai 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 ho vinto ho vinto non ho vinto non ho vinto non ho vinto non ho vinto un po' rugoso però vabbè è una cosa che si può dire è aumenta la voglia di stare dentro non è vero vabbè in teoria dovrebbe aumentare la voglia di stare online ma col tuo amico dimmelo che andiamo mi dica signor pigman ha qualcosa da ridire io sono venuto qui per vedere come serve lei ha qualcosa da ridire ci permette di dire qualcosa ma ci permette pure ma che stronzo comunque nonno muori aspetta ma qui c'è morto uno ma c'è morto uno qua ah ok perchè è fuori dalla zona sicura guarda quanto mancate guarda quante mancate c'è la roba di un altro no è roba mia no roba mia e tendici con una linea qualcosa perchè non si capisce tantissimo dove si esce dalla zona pvp no allora stavo dicendo alla fine è settato tutto in maniera passabile non è malaccio qualche piccolo errore ma è errore che ci chiudiamo anche un occhio mettiamola così ma la cosa principale si adesso andiamo a vedere i vip ma volevo dire ma se non mi mettete qualcosa da fare qualche cosa di vero oltre che farmi una fazione fatemi vedere qualcosa da fare qualcosa di particolare non solo questo allora i vips vediamo i vips allora questo cos'è? che cos'è questo? questo è vips conosciuto vips conosciuto dal kit mago il previeve mago che caro ah ok mi fa vedere questa è la roba che dà kit mago un casino di pozioni bello kit world il home può settare fino a un massimo di tre home comandi vari chat colorate disguise ok 11.50 e 11.50 credo che anche questo costa 11.50 però si sono un po' scordati di sistemare meglio il vip mi tocca pure censurare gli altri server cioè uno entra e dice vado a giocare là mi tocca censurare anche questo l'altra parte mi scatole allora ok kit builder bello il kit builder cioè mi dà roba ma che cosa me ne faccio di un kit builder che dà sta roba cioè che mi dia 100 cose in più mi dà uno stack di stone uno stack di legno ma che un kit inutile direi ok almeno l'armatura ma questa è un'armatura mega oppia la madonna la madonna che è? protezione 3 unbreaking 3 spin sharpness eeeh ma che è? questa è un'armatura da vipone non da vip normale che è? facciamo un giro da un'altra parte andiamo nelle sky wars andiamo nelle sky wars andiamo nelle sky wars via andiamo a fare un giro un ultimo giro veloce mi ha dato ok mi ha dato armatura open lobby cos'è sto coso? cos'è un gorgo dell'odio e dell'amore che è anche? vabbè buttiamoci alla cabare oddio cosa succede? aiuta cosa succede? cosa succede? è niente cosa non c'è niente? oddio fortezza combatti e ah ti vedo ti vedo laggiù come va? laggiù ma io non casso non ti ho preso ma io non ho niente che cavolo faccio? non ho niente ho due o tre proverò andare al centro alla madonna dei salti prova a saltare sono spider-man se faccio salti così ok? proverò andare al centro non so cosa fare mi nascondo a lei non mi vede nessuno sono insgavabile sono insgavabile non mi vede mi vede nessuno vedo che è lì che sta scavando e sta lavanando momento che adesso la scavando momento che adesso la scavando adesso va non avanti? non vai più dritto? vai su vieni avanti su vieni avanti vieni vieni avanti vieni vieni avanti ma come fanno queste uova? sono qualcosa si si lanciano via vieni un po' più prova da lato prova da lato che divertimento uno stream chi vincerà? uno stream ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta ho vinto ho vinto vincitore discurso del skywars grazie basta applausi basta grazie io so comunque niente ragazzi questo è il server fammi togliere questa armatura che mi fa piangere questo è il server l'abbiamo un po' visto in generale alla grossa l'abbiamo visto in generale allora per le costruzioni non lo so sono costruzioni sono carine dai ci darei anche un 7 a fin dei conti le costruzioni erano carine a parte lo spawn che sinceramente ma a gusti miei personali non mi piaceva sinceramente sembra tutto buttato non dire sta cosa quella è una delle prove matematiche se no dopo ci accusano di favoreggiamento comunque per il settaggio di tutto ma direi che anche di un 6 dai perché alla fine è settato benino alla fine dei conti ma mangia le mele opi intanto io cazzeggio con gli ischietti che intanto non metteranno mettete dislike nel video e quindi niente che altri voti la pazienza no cos'era un altro voto non me lo ricordo mi ricordo c'era un altro voto che non me lo ricordo pazienza non mi ricordo l'altro voto comunque la pazienza dello staffer non ho parlato con staffer ma tanto staffer vedo che non ce n'è staffer non ce n'è quindi pazienza non ce n'è di staffer quindi la pazienza non si può valutare e ci attacchiamo il tram e niente mi raccomando ragazzi mettete il pollice se non vi piace su questo video di quello di lasciarlo se non vi piace su questo video commentatelo condividetelo dovunque anche accesso mi raccomando e niente direi che per il momento possiamo dire che è finita vogliamo andare già a vedere non so altre modalità secondo me sono più noioso però vabbè vado a giocare vado a suicidare vado a giocare ciao ciao